Quando lei... Scusa, buongiorno! Ce l'hai l'auricchio piccanto? Piccanto? Come no? Ma quello vero, se non vedo non credo. Credo? Non ci si può sbagliare. Taglio? Taglio. Taglio. I miei amici, a loro piace piccanto. Piaccio piccanto, sì. Una foto? Per mia moglie, sai? Ecco, pronti? Ti è venuto stavolta? Guarda! Ah, bella coppia, eh? Ah, per favore! E tu? Bistoglietti! Auricchio, se non lo vedi non ci credi.